L'app Immuni, che in Italia serve a tracciare i contagi da coronavirus, continua a far parlare di sé. Non è obbligatoria ma su base volontaria e quindi è l'utente che decide se scaricarlo oppure no. Ieri abbiamo sentito il parere dei fanesi, molti dei quali hanno dichiarato di non averla scaricata. Oggi invece abbiamo contattato alcuni politici della provincia di Pesero-Urbino e rappresentanti di associazioni locali, come il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha raccontato di averla sul telefonino. Bisogna essere collaborativi, ha detto il primo cittadino. L'app non è risolutiva ma è utile. Se ogni volta che si fa qualcosa stiamo a contestarla, non andremo mai avanti, di certo male non fa. Ad averla scaricata anche il consigliere regionale della Lega, Mirko Carloni, e la presidente dell'ente carnevalesca, Maria Flora Gianmarioli, entrambi contagiati dal covid all'inizio dell'emergenza sanitaria. Invece, nonostante la campagna di sensibilizzazione messa in campo dal governo e dall'Asur Marche, il neogovernatore della regione, Francesco Acquaroli, a Rai News 24, ha rivelato di non averla scaricata e di non avere l'intenzione di farlo. Il presidente ha affermato che è logico aspettarsi che qualcuno non la scaricherà mai, come ad esempio un ottantenne che non ha neanche il cellulare. In sostanza, non serve se non ce l'hanno tutti. Una dura replica è arrivata questa mattina dal sindaco di Pesero, Matteo Ricci, che in un post sul profilo Facebook ha invitato Acquaroli a correggere la comunicazione sollecitando i concittadini a scaricare l'app, come tutte le autorità sanitarie stanno chiedendo. Abbiamo bisogno di grande collaborazione da parte di tutti, ha scritto Ricci, e i rappresentanti istituzionali devono dare l'esempio per primi. Dello stesso parere, Maurizio Mangialardi, che era candidato alla guida della regione, Acquaroli con la sua incaute e ingiustificata esternazione, ha detto il consigliere PD, non solo ha creato un cortocircuito istituzionale con le autorità sanitarie del paese, ma di fatto ha depotenziato nelle Marche uno strumento utile a contenere il contagio. Evidentemente, ha proseguito Mangialardi, la tragedia vissuta nella scorsa primavera non è stata di lezione. Anche per Andrea Biancani, mister preferenze alle elezioni regionali e consigliere d'opposizione, immuni è uno strumento importante e chi ricopre un ruolo pubblico dovrebbe dare il buon esempio, promuovere e incentivare l'applicazione affinché tutti ce l'abbiano. Perché solo in questo modo si potranno individuare più contatti ed eventuali contagi. D'accordo con Biancani, anche la collega Michaela Vitri, la giornalista afanese, ci ha raccontato di conoscere tre persone alle quali l'app ha inviato la notifica che segnalava un contatto stretto con persone positive al virus. Tutti e tre si sono messi in isolamento e uno di loro si è sottoposto a tampone. Una testimonianza riprova dell'efficacia dello strumento, ha detto la Vitri, che ha fatto notare anche la semplicità di immuni da quando si scarica con due semplici passaggi al suo utilizzo. Hanno anche cambiato versione rispetto a mesi fa, ci ha fatto notare, è stata alleggerita e migliorata. Scaricata anche da Moreno Bordoni, segretario provinciale della CNA, è un gesto importante, ha dichiarato, che aiuta a concorrere alla sua efficacia. Ho fatto la mia parte, ho messo il mio mattoncino, ha proseguito Bordoni, così come mia moglie e quasi tutti i colleghi dell'ufficio. Senza dare lezioni a nessuno, anche io ho contribuito a fare del bene a me stesso e agli altri.